Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione tenderà nuovamente a perdere energia a partire da nord. Infatti si attiverà un flusso di correnti più fresche e instabili in discesa da nord atlantico che martedì daranno luogo a rovesce temporali su Alpi e Prialpi e dentro sera anche sull'alta Valpadana. Poi mercoledì ancora instabilità soprattutto al nord est, Toscana, Umbria e Marche con fenomeni temporaleschi sparsi alternate delle pause più asciutte. Giovedì spiccata variabilità soprattutto sui versanti adriatici e le estreme regioni meridionali con acquazzoni alternati a schiarite. Andrà meglio sul resto d'Italia anche se le temperature tenderanno progressivamente ad abbassarsi da nord a sud della penisola in particolar modo sul versante adriatico. Con questo è tutto, per maggiori dettagli anche sulla vostra località di interesse scaricate l'app di Trebi Meteo.